buongiorno buongiorno oggi uscito il nuovo numero del classic zagor il numero 20 eccolo quello vediamo qui il messaggio tragico ok diamo un'occhiata a questa nuova uscita di ottobre della ristampa allora fondo verde qui vediamo sempre taglio orizzontale di una striscia delle serie ormai storiche la costina su fondo verde come la copertina prossimo numero allora numero 21 la vendetta dello stregone ok ne dico dal 13 novembre famosa che sta questa questa scena qui di zagor sotterrato ok allora vediamo un po come quest'alba vi faccio vedere un po di cose dunque qui morano burattini in francia fu uno dei primissimi paesi ah sì qui si parla del sacro senza piume anche questa storia che ponelli considerava fuori dai da apocrifa si usa dire perché era fuori dai canoni zagoriani perché non passata dal suo controllo del sacro senza piume qui sul canale c'è un altro filmato lo potete cercare che vi fa vedere sia l'originale nella serie kiwi che quello ristampato in italia dalla nafi volume molto 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 bello ok allora diamo un'occhiata alla storia qui c'è la fine della storia di nolitte segnata da chiomenti ok vediamo un po cosa comincia qui qui finisce la curiosa la l'ultima vignetta ci hanno infilato questa questa vignetta allora terrore nella valle ok ecco qui si può dire che già si comincia a vedere un ferry già un pochino più maturo rispetto ai primi albi si cominciamo ad avvicinare a quel tratto che non ha reso inconfondibile e unico qui già in alcune tavole stiamo avvicinando a quel tratto guardate la bellezza di queste tavole il dinamismo di zagor sia nella nuotata nel tuffo vabbè sappiamo che ferri era di un'altra pasta ok allora vediamo un pochino qui un abisso verde continua la storia la famosa abisso verde che anche il titolo del 64 della zenith vi farò vedere poi in un filmato particolare l'originale a proposito vi voglio ricordare come avevo già detto un altro filmato che tutte le richieste che mi state facendo per vedere determinati numeri monografie cose di zagor arriveranno è che ora un problema di trasloco andate ancora un paio di settimane poi tutte le richieste saranno esaudite allora qui vediamo la pubblicità del nuovo libro uscito qualche giorno fa bellissimo libro anche di questo c'è un film un filmato sul canale dove lo rappresentiamo addirittura in anteprima andatevelo a vedere perché ne vale veramente la pena come ne vale la pena il libro ok qui finisce l'episodio quindi finisce direttamente qui e qui come abbiamo visto c'era il nuovo volume poi ragazzi è uscito classic zagor questa serie comincia a prendere forma nel senso arriviamo all'epoca d'oro diciamo ci stiamo avvicinando piano piano purtroppo la foliazione le pagine così poche la rendono un pochino lenta ma insomma è sempre un piacere rivedere i disegni di ferri con le storie di bonelli a colori come sono presentate qui alla prossima buona giornata a tutti